Vedi, le nostre collaborazioni funzionano a qualcosa alla fine. Le collaborazioni fungono. Le collaborazioni fungono, fungono, come i funghi, no? Fungono. Nicchè poi vendi il tuo logo, vabbè. Buonasera, Luxus, ben arrivato. Nicchè auguroni per oggi, eh. Ho cercato di darteli su YouTube, ma era impossibile. Che cosa, Matteo? Cosa mi volevi dare su YouTube, Matteo? No, casomai l'inverso. Ah, ok, quindi hai conosciuto Alex grazie a me. Vabbè, è lo stesso. Va benissimo lo stesso. Grazie, Daniele. Auguri, lo sai che ti seguo dai 100p iscritti. Forse 100k, vuoi dire. Forse volevi scrivere 100k. Vabbè, comunque, grazie allo stesso. Saluto a tutti. Saluto a tutti, ok. Poi è il bello che ci sono lavori fedelissimi, quelli che ti seguono dall'inizio. Sì, sì, ci stanno. C'è tipo Poddi. Sì, è bellissimo. Grazie, Matteo. Fa qualche anno diventerai famosissimo, speriamo. Eh, vediamo, dai, vediamo. Ciao, Daniel Italian. Grazie per il follow-up. Ben arrivato. Nicchia al gancio e al cassone autoscaricante. Ma io qui non ho una trince. Auguri per il canale. Grazie, Luca.